Grazie a tutti. È dell'82. È un medico. Come è un medico? È un medico che c'era in pronti soccorso, è stato ricoverato e ha covid. È stato intubato e anche lui ha fatto l'iter come tutti gli altri. Penso che la struttura adesso stia arrivando al punto di saturazione. Non servono solo i posti letto, ma serve soprattutto chi fa assistenza, servono i dispositivi di protezione individuale, servono i ventilatori. Italy's lockdown is the model being adopted elsewhere. Public transport and traffic are still running, but people are only going out in urgent need. And it's orderly, with measured queues for the supermarket as people are allowed in one by one. The fruit and vegetables are stocked as normal. There's very little sense of panic buying here. And with the loo rolls, well, some brands are down, but with this level of outbreak, Italians are behaving, on the whole, rationally. world. The온 The온 Grazie a tutti.